I legni da terra e gli ibridi servono quando devo fare la massima distanza dal fairway o dal primo taglio di raff. Sono di loft variabile, quindi di inclinazione della faccia del bastone che vanno dai 15 gradi per un legno 3 fino anche ai 25-26 gradi per l'ibrido 5, l'ibrido 6. Quindi posizione della palla e posizione di setup. La pallina è più o meno sotto il logo dell'Apolo perché io devo avere l'idea di spazzolare l'erba per avere un angolo di lancio ottimale con i legni da terra e con i ibridi. La larghezza dei piedi è larga come le spalle, l'inclinazione della schiena è leggermente verso destra. Questa è la posizione corretta per eseguire i colpi con i legni da terra e gli ibridi. La sacca può essere composta da più legni o da più ibridi a seconda della richiesta del giocatore. Grazie. 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 Grazie.